La Somma Rivese Onoranze Funebri Servizio curato e affidabile. L'azienda opera da 30 anni nel settore delle onoranze funebri ed è contraddistinta dal marchio La Somma Rivese di Sommariva del Bosco. Successivamente acquista anche il marchio Onoranze del Roero di Ceresole Alba. I titolari svolgono direttamente tutti i servizi dalla preparazione alla conclusione. L'agenzia è attiva 24 ore e offre i propri servizi in modo completo e professionale. L'agenzia è a Sommariva del Bosco Cuneo in via 4 novembre 8.